Il Consiglio regionale chiede il rinvio del piano di tutela delle acque che slitta ora al 2027. Un piano che prevedeva il risanamento dei fiumi abruzzesi, dello spinoso problema delle falde acquifere e che comprende anche ricadute economiche sui comparti del turismo e dell'agricoltura, secondo il forum dei movimenti dell'acqua. Crediamo che non sia un piano di tutela delle acque, ma forse è più un piano per tutelare qualche funzionario dai problemi che stanno venendo fuori, nel senso che è inaccettabile rinviare al 2027, chiedere una deroga appunto al 2027 per il risanamento dei fiumi. Noi dobbiamo salvare i nostri fiumi oggi, non fra 12 anni. Poi anche i corpi idrici sotterranei, le falde, l'acqua che non vediamo ma che c'è ed è molto importante anche per il nostro futuro, c'è una condizione molto complicata, difficile di inquinamento. Una situazione che preoccupa quella dello stato di salute dei fiumi, argomento giunto alle cronache più e più volte che oggi a Pescara vede intervenire il sindaco Marco Alessandrini per ordinare il blocco della Pescale Vongole per un caso di Salmonella. Questo diventa un problema sanitario prima di tutto, ma anche un problema per il turismo, perché si parla tanto di incentivare il turismo che probabilmente è una delle nostre risorse principali in questo momento e invece con questo piano di tutela delle acque non tuteliamo quello che è il nostro bene principale.